Ciao a tutti ragazzi, come state? Allora vi vorrei tanto tanto ringraziare per tutti i complimenti che mi avete fatto sotto il mio video Quello lì, diciamo, tuoi vi mostro i miei capelli nuovi Allora, oggi vi voglio, a parte vi voglio mandare tanti baci Perché con me siete sempre tanto tanto gentili Oggi vi faccio un po' di scendelle, vi mostro certe così Oggi farò un po' di videotapping Non ci fate caso a questo smalto Fa schifo, non metto l'ora di cambiare Grazie Grazie a tutti. 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 E' molto rilassante questo rumore qui. E' molto rilassante. Però questo l'ho preso per mia macchina. E' molto rilassante. Questa è una nozione tonica. Ed è un pochettino densa. Ed è un pochettino densa. Però queste non sono per me. E' un pochettino densa. Questo è un pochettino densa. E' un pochettino densa. E' un pochettino densa. E' un pochettino densa. E' così. E' un po' marrone. E' un po' strano. E' un pochettino densa. sia sul viso che sui capelli e vediamo composto da olio di argan biologico, acqua di rose estratto di mais e vediamo vediamo come è anche questa qui intanto c'è il mio molli che torna poi ci sono delle cose in offerta però non so se prenderò qualcosa adesso vediamo un po' perché voglio finire varie cose mi piaceva aspettate adesso lo faccio vedere vorrei vedere c'era questa questa qui questa mossa idratante anti ricrescita per i peli per quando vi depilate mi incuriosiva questo e poi adesso vediamo cos'altro vediamo crema mani mani pulite crema mani vabbè poi qua cosa c'è ci sono le acque profumate acqua profumata olio di diari olio secco no questo non ci interessa poi c'è il correttore ma i trucchi in genere non li prendo quasi mai non qua sopra il mio coniglio continuano per vedere vediamo sono molto rinforzante c'è l'occhio un po' per maschi quindi forse prendo prenderò quella cosa per per anti ricrescita peli per i peli non lo faccio forse prenderò quella altrimenti mi piaceva anche questo olio questo siro per fortificare i capelli ma comunque credo quasi sicuramente è forse forse qua c'è qualcosa ci sono anche questo che forse ditemi se l'avete provato questa haute toilette al mandarino limone cedro questo qui ero curiosa di provare questo qui poi c'è sia il cocco sia la vaniglia e quindi sono indecisa è tutto queste cosine stavano in questo posto intanto mi metterò un po' la pelle un po' allora ditemi se questo video vi ha rilassato noi ci vediamo al prossimo video che spero di farlo al più presto magari adesso vediamo che tipo di video fare voi vi consigliate i miei vari video qui sotto giù nei commenti io vi mando un vaso enorme e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao